Allora ragazzi, buona serata a tutti. Come avevo detto in City-Celsea, dopo City-Celsea, e stavolta rincaro la dose, Guardiola ha fallito, ha fallito miseramente sotto tutti i punti di vista, anche se secondo me i giocatori del City vengono e sono stati sopravvalutati negli anni, ma questo non è un alibi perché comunque, perché comunque era 6 minuti alla finale. Sapete benissimo che io, come ragiono io a livello offensivo, giocare comunque, cercare di non avere rimpianti dopo, come quella volta noi a Madrid che stavamo vincendo 0-3, e poi ti difendi e prendi l'incurata all'ultimo. Tu eri in vantaggio i due gol però stavolta, che è diverso. Non è un discorso poi di gestire 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, è un discorso di gestire 6 minuti e gestire poi tranquillamente anche con la palla tra i tuoi piedi, invece che continuare ad attaccare. Io non sono per il troppo. Guardiola, secondo me, è un Allegri dall'altra parte, nel senso che è un attore che, anche se comunque aveva fatto bene sotto alcuni aspetti, l'ho visto più equilibrato quest'anno, però ha sbagliato quei 6 minuti. Cioè, quei 6 minuti lì sono fatali. Sono fatali. Non puoi sbagliare. Non puoi sbagliare una roba del genere. Non puoi sbagliare quei minuti lì, quando sei a 6 minuti dalla finale di Parigi. E io rincaro la dose perché in finale contro il Chelsea hai fallito. Dopo la partita di oggi e la partita d'andata, tu oggi devi dimetterti. Non ci sono cazze. Cioè, se tu avessi le palle, cosa che dico sempre di Allegri, io ripeto, Allegri è troppo difensivo. Guardiola è troppo all'altra parte, anche se, ripeto, quest'anno aveva dimostrato di avere un certo equilibrio. Ovvio che non doveva, diciamo, stravolgersi a livello difensivo, no? Io poi credo che l'uscita di Walker abbia condizionato alcune cose, perché Cancelo è stato spostato di qua, Zinchenko non sa difendere ancora meno di Cancelo, dato che lo criticate tanto Cancelo. Zinchenko sa difendere molto meno di Cancelo. Quindi, questo sicuramente è da sottolineare. C'è poco a fare. Non ci sono giustificazioni. Poi c'è il fatto che poi, eh, ma vedi il calcio, eh, vedi il calcio, però alla fine, in finale, sono sempre quelle che comunque giocano. O il Real Madrid, che è l'unica squadra che secondo me veramente ha campioni affermati, campioni affermati negli anni. Modric, Benzema, Kroos, ecco. Questi sono giocatori affermati negli anni. Gli altri del Liverpool sono campioni che sono usciti grazie a Klopp, mentre quelli del Real Madrid sono affermati con più allenatori. Che è diverso. Che è leggermente diverso. Quindi bisogna anche dire questo. L'unica squadra che, siccome è, lo dicevo prima delle semifinali, ha l'obbligo veramente di vincere il Champions League per i campioni che ha il Real Madrid. Ma sicuramente, Guardiola, non parlo di soldi, perché i soldi per me non fanno i giocatori. Hanno speso troppo? Sì, per noi è troppo. In Inghilterra spendono 115 milioni per Lukaku, che è un giocatore di merda. Cioè, parliamoci chiaro. Bene. 115 milioni per Grealish. È un giocatore normalissimo. È un giocatore normalissimo. Il fenomeno De Bruyne. Ma vogliamo parlare del fenomeno De Bruyne che vi dico sempre che nel momento clou viene sempre a mancare questo giocatore? Sono a soglia di 30 anni. I campioni e i ragazzi, ve lo ripeto. I campioni sono altri. I campioni sono altri. De Bruyne oggi non è che si è fatto coinvolgere dalla mediocrità. De Bruyne oggi non riuscì a stoppare un pallone. Ha fatto solo un buon assist per Bernardo Silva. Basta. Non sapeva stoppare un pallone, passare. Si vedeva che era sotto tensione. e non sa sopportare la pressione di Madrid, del Bernabeu. I grandi campioni sono riusciti a fare questo. De Bruyne. Oggi Modric ha 35 anni. Ha dimostrato a De Bruyne cosa significa veramente essere un campione. Modric ha 35 anni. 5 anni di più di De Bruyne. Questo è un dato di fatto. Poi, ragazzi, a Madrid, ripeto, a Madrid non puoi dare scontato neanche un minuto. Figuriamoci sei. L'ha, hanno tirato, hanno attaccato, hanno cercato di fare il 2-0, non ci sono riusciti, hanno tirato i remi in barca, ma non si sono neanche difesi. C'è questo il problema. Non si sono neanche difesi. E io sono sempre l'idea che il tabellino non mente mai. E tu, se fai una, se hai un approccio del genere negli ultimi minuti, meriti di non andare in finale e merita il Real Madrid, che è che ha campioni. Perché poi io credo che con il discorso del gioco offensivo o meno, ok, puoi dire che l'ha non conta tanto solo se hai una squadra di campioni. Solo se hai dei campioni in squadra. Allora, ripeto. Però, nel resto, che l'unica squadra che veramente ha il DNA da Champions, è sempre Real Madrid. Perché le altre si sono costruite con progetti, Liverpool, il Bayern Monaco, lo stesso Milan, anche se comunque Berlusconi ha speso tanto, il Barcellona stesso con la Cantera. Quindi sono tutte squadre che comunque si sono costruite negli anni con progetti diversi, ma con progetti. In Real Madrid, l'unico progetto che ha sempre avuto è i campioni con gestori, con grandi gestori. Non allenatori, ma grandi gestori. Non serviva avere un allenatore che insegnasse il calcio ai giocatori, perché lo sapevano già giocare. Non serviva lavorare tanto sui movimenti senza palla, perché comunque i giocatori che venivano comprati sapevano già fare quei movimenti e per di più avevano compagni che comunque sapevano mettere il pallone sulla corsa. Questo è, diciamo, questa è la mentalità del Real Madrid. Poi vogliamo parlare, parlare di Allegri che ha rifiutato il Real Madrid? Vogliamo veramente parlarne? Io adesso non so come andrà il 28 maggio. A me farebbe veramente sorridere dovesse vincere la Madrid. Allora, intanto sono contento che abbia vinto oggi il Real Madrid, anche se comunque sapete che a me piace guardi ore e quant'altro. Ma per il fatto che a inizio partita non si sono inginocchiati. E solo per questo ha meritato di andare avanti. Chiusa parentesi. Ok? Boh. Altra cosa, dovesse vincere la Madrid Champions, cioè, due sconfitte, una di Allegri e l'altra di Ceferin, perché anche Ceferin, insomma, vedere il discorso Superlega, poi fatalità nell'anno che hai fatto questa battaglia contro la Superlega e quant'altro, ti vince una delle tre squadre e devi anche premiarla, o a meno che tu non faccia come Blatter, che non premi, come era successo nel 2006 con l'Italia. Boh. A me fa veramente sorridere sta roba qua. Fa veramente sorridere e Real Madrid, l'ho detto l'altra volta, Real Madrid non muore mai. Cioè, è talmente una cosa sola con la Champions League. Quando dicono l'UEFA fa la battaglia al Real Madrid, cioè, capisco la Juventus, ancora ancora Barcellona, ma Real Madrid, che Real Madrid è la Champions League. Cioè, il Real Madrid è come se avesse inventato questa competizione. Cioè, Real Madrid è nato per vincere questa Coppa. Real Madrid è nato per vincere quella Coppa. C'è poco a fare. Tu non puoi togliere di mezzo la squadra che rappresenta questa competizione. Che adesso lotterà per la quattordicesima Champions League, mentre qua ci esaltiamo per vincere la quindicesima Coppa Italia. Questa è la differenza. Questo è il discorso a fare. Il Guardiola oggi, ripeto, ha fatto che tra l'altro Gundogan lì ci poteva anche stare perché Gundogan di norma è titolare comunque nel City. Poi, se noi andiamo a vedere i singoli ragazzi, i singoli per me sono più forti quelli del Real. A parte qualche giocatore, ad esempio, Cancelo e Mendy per me è più forte Cancelo. Macarvale, Walker, per me sono sullo stesso livello, non è che siamo distantissimi. De Bruyne, Modric, per me Modric con cinque anni in più è superiore a De Bruyne e l'ha dimostrato. Modric ha dimostrato cosa significa essere campione e cosa intendo io quando critico il fatto che voi diate, insomma, il termine campione a tutti, compreso De Bruyne. De Bruyne è un ottimo giocatore, è forte, non sto dicendo che è scarso, ma per essere un campione deve avere continuità tecnica, tattica e mentale. E De Bruyne ha dimostrato di non avere questa cosa qui soprattutto nei match club che è lì che devi vedere il vero campione. E De Bruyne nei momenti club ha steccato la finale col Chelsea stasera, cioè, ragazzi, è andato di fatto. Ripeto, il City non ha neanche un campione, se devo essere sincero. Poi, questo non è un'attrenante al Guardiola, non è un'attrenante, c'è una cosa di ottimi giocatori che ha richiesto lui con qualche giocatore sopravvalutato come due centrali per me, per il resto sono ottimi giocatori però che comunque con gli ottimi giocatori nel doppio confronto anche noi abbiamo dimostrato di poter eliminare il Real Madrid, nel doppio confronto dovevi gestire meglio, non nel doppio confronto gli ultimi sei minuti dovevi gestire meglio. E tu che il fatto che sapete cos'è è che Guardiola è migliorato sotto quell'aspetto perché è diventato più verticale ma non ha palleggiatori non ha palleggiatori quindi o sta nella metà campo avversaria o non riesce a far passare il tempo col pallone tra i propri piedi perché non ha adesso non è per diexavi iniesta però quel tipo di giocatore lì perché De Bruyne non è un palleggiatore De Bruyne ragazzi è un giocatore che anche lui è da strappo cioè l'ho visto che quando viene marcato raddoppiato ha tante difficoltà questo giocatore qua Rodri è un giocatore sicuramente che fa incontrismo ha buona qualità ma non è comunque un palleggiatore cosa che può essere Busquets e dall'altra parte Bernardo Silva è un altro giocatore che comunque cioè gioca di prima dribbla ma comunque siccome non ha quelle doti da palleggiatore nemmeno lui Gundogan non ne parliamo Gundogan è un incursore è uno che aiuta a ricoprire il pallone e quant'altro quindi quel tipo di gioco lì Guardiola siccome non è riuscito a farlo perché per me ha fatto anche delle richieste sul mercato che non sono comparabili con le sue caratteristiche e poi in attacco ragazzi Sterling Marez tutti i giocatori sopravvalutati perché Sterling ha fatto 15 gol con Guardiola che è stato bravo lui a metterlo nelle condizioni Gabrielsus ragazzi Gabrielsus non giocherebbe di trovare neanche da noi a parte gli scherzi a parte gli scherzi che sapete benissimo cosa penso del falso 9 il falso 9 per me funziona ci va Gabrielsus non è nel falso 9 un attaccante è una merda Gabrielsus ragazzi dai un giocatore di merda forse lì Vlaovic giocherebbe a posto di Gabrielsus anche se a me non piace Vlaovic e Ederson è stato preso da Guardiola perché è bravo con i piedi ma abbiamo visto che con le mani è da mettersi le mani nei capelli tant'è che col Brasile se non sbaglio non gioca neanche titolare questo è oggi più che mai purtroppo per lui la qualificazione la buttata puttane il signor Pep Guardiola fine complimenti a Madrid complimenti a Ancelotti che comunque si sta affidando molto all'individualità ma a Madrid te lo puoi anche permettere perché c'hai individualità veramente forti rispetto anche da altre parti che l'hanno dimostrato con continuità negli anni e bravo a fare gruppo Ancelotti è un maestro a fare gruppo questo sicuramente questo gli ne ha dato atto non vinci tre Champions con due squadre diverse insomma per caso anche se hai le squadre più forti bisogna essere bravi comunque a mettere i dettagli soprattutto nelle competizioni corte così quindi vabbè questo è quanto e niente sarà la rivincita del 2018 la Madrid Liverpool vedremo chi vincerà io ve lo dico qua ovviamente anche per il discorso Liverpool io ammiro apprezzo molto Klopp però per tutti i motivi che sapete spero la vincita del Madrid ma con tutto il cuore ok buonasera a tutti e sempre comunque fino alla fine forza Juventus alla fine potete dire quello cazzo che volete ma alla fine in finale ci arrivano sempre quelle squadre una squadra di campioni che è la Madrid e l'altra che è un attore campione che è diverso ciao a tutti che è un attore